sta bene il film adesso alla lana e tu hai ripisciato e tu hai ripisciato tu mi la fai apposta eh? 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 ma io ci vado a buscà te ci vado a buscà io se ti metto così te ti cucino come i vogli perché voi lo sei c'era quell'altro, Siri Skyline, però è troppo complicato di questi e devi fare tubature, devi fare quello è quello il gioco di città eh? è quello il gioco di città queste le tubature mie le devi fa' ah eh te le fanno automatico, capito? invece ti passa proprio le tubature sotto terra, devi fa' proprio tutto eh, ma che cosa vuoi da me adesso? eh, ma che cosa vuoi da me adesso? faccio un piano i centri commerciali lamentate che c'è da lavoro non ce n'è troppo io ad esempio lamentate ah, c'ho la corona qua ah, c'è da lavoro che c'è da lavoro ah la realtà di non c'è lavoro perché impessegnano se si è attuale sicure di soddisfare ce l'andremo presto io adesso ti ho dato modo di lavorare e poi adesso non c'è poi i problemi è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senti, quando fanno le megatorri, ti sminchia il gioco? Senti, quando fanno le megatorri, ti sminchia il gioco? Senti, quando fanno le megatorri, ti sminchia il gioco? Senti, quando fanno le megatorri, ti sminchia il gioco? Senti, quando fanno le megatorri, ti sminchia il gioco? Senti, quando fanno le megatorri, ti sminchia il gioco? Ti sminchia il gioco? Ti sminchia il gioco? Il lavoro l'ho messo io però, non mi potete creare il cazzo così, sono sempre loro! Cosa c'è? Cosa c'è? Io ti chiudo e tu non mi dà più problemi? Non c'è più problemi? Non c'è più problemi? Non c'è più problemi? Giusto? Piano centri commerciali? Abbiamo bisogno di compratori! Ah no, allora i centri commerciali non ti danno lavoro! Aspetta, levala! Allora, qua, aggiungi... Forniscio lavoro e mantenere gli esibili senza preoccupare! Allora, qua, qua, qua! Vado questo, qua la proprietà! Allora, riusciamo a trarre lavoro? Adi pazienza, qua lo trarre? Non ti preoccupare! così vado qui non voglio piazzare un'altra ma la piazza qui o qui ah ma ce l'ho un'altra c'è una roba che fa tipo eh ma lo vedo è un farti male consegna ok ma la gente ce n'è 11 a Roma santo Dio questa qua lo insegna adesso ai 10.25 oh mo chiamo il locale e entra ora aspetta avrei bisogno di 10 bits se inventiamo una via da qualche parte non vorrei non vorrei mettila gioco ma noi viene qui tu racconta non sai che mi hanno chiamato 10 bits sono arrivato lì c'era nessuno ah sì ma quel bel po' che merda niente e ci hanno problemi perché non lavorano è un problema siete voi di lavorare subito bene qual è il problema vieni ti piazzo un'altra cosa per farti lavorare vai ancora allora 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 scuola professionale non ce l'ho sì perché è tutto però allora non abbiamo un lavoro non riusciamo a trovare un lavoro mi sta rompendo il cazzo te lo dico ne faccio un altro eh non è un problema rischi i soldi va bene va bene cerca te il lavoro eh? vada cerca te il lavoro piano appartamento il TSS ho messo questo e ora li vedi cioè se mori dice una trota chiudo e basta ma c'è tanto il cazzo queste sono risorte ma pure queste sono risorte che se no mi fanno si calco si lascia fuori le acque e le acque tubi intasati quindi che cosa devo fare questo? ce l'abbiamo questo piazzano che parte? c'è quello che non basta che non basta vuoi ammetti che ci stanno i limiti giusto c'hanno sempre problemi di lavoro da mio tempo te capito che hanno aperto qui per lavorare che poi scusa una cosa questo è pieno questo è pieno questo si sta impiendo cioè stanno in sei dentro questi appartamenti su 600 e cagano il cazzo perché non c'è lavoro ma meno figli no qui ce ne vanno 100 ancora per completare il piano di uffici perché siete in sei andate là no? dovete stare un piccoglioni creo il concerto rock vai favo i giorni la magata si aveva fatto tutto beh certo ma lo sai che ho messo rumore di tubi mi hanno detto a tattinare l'orcazzo non si parla unicepio migliora che bello dai fa mettere il porticano qui poi fa sdraia le madonne no posto di guardia dove lo mettiamo? ma tu ogni palazzo lo fa il municipio come le pare? no questo è il municipio e ti dà delle modifiche ogni volta che lo migliori ma ho visto che pure prima hai messo un depuratore più eh certo un pianto di depurazione delle acque quando si impie aggiungo un altro serbatoio qui come si chiama? la tanica giungi 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 fino a che poi giungi poi poi tutte queste ci hanno un costo ma come si chiama? se sto rallentando si eh no mi ti ha rotto il cazzo te ste pizza farebbe io la pizza l'accento romano sempre il top eh certo non è il quattro no no non è quattro non è tre non è due non è l'uno aspetta molto lo dico bui il dito una cosa del genere si chiama tornamolo principale si si rebuild it ah questa è l'espazio un parco però e qui è un problema allora sta su lo dico subito esci un po' da sto gioco di merda allora mi sembra eh si che poi è diventato cosa eh guiaghi se gli andrà allora ma sa manco e allora ma sa manco o vado perché ah perché ho l'apparamento io e che vuol dire come si chiama non si è tutto attaccato eh glielo lui 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 tu calcola quello con tutti i dlc che costerà lo sto pagando ah 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 è quello fatto vabbè non aver pagato viva fatto la buona metà a tre euro e c'era viva ma non c'è tutti gli alicei non però vedi tutti gli addon digital deluxe città del futuro che faccio che faccio città del futuro è quella che c'è adesso eh però mi dice cancellò infatti non ho capito questa cosa però questo è incluso per esempio di riciclio perché noi l'incluso città inglese è incluso francese è incluso la nissan elettrica che cazzo cilindro con le macchine elettriche aggiungi te ma poppy andiamo su mi sproppo le orecchie ti posso strappare le orecchie ma ve lo faccio ve lo faccio ve lo faccio ve lo faccio e non so ma ho paura lo guardi lo guardi lo guardi e quando si tratta di bagnata mi capito poi eh allora sì comunque sono un po mi pare che vado a pagare tipo 2 euro la donna non mi ricordo quanto vado eh vado la 10 euro ce l'ho pagato tutto il gioco io quanto l'ho pagato via mi ricordo no vabbè però ma lo so pure squadra questo qua ci posso giocare sta a 62 euro questo ci posso giocare sta a 62 euro cazzo cazzo la fifa posta 70 euro e non ho pagato cazzo cazzo ma ieri che copriano a fare i giochi che non li pio perché c'è sto mai a parte che c'erano il filo però hai capito c'è se ti fate conti due partite a fila dove ti appostate no che gioco dove sono te c'erano però se c'è solo quello il mese faceva la comprenta viva ma i product in serie perché mi fa vedere non lo so cronologia complete 18 euro e ce l'ho e ce l'ho di cimesa mi sembra e ce l'ho imparsa ho pagato 7 euro e